Ci troviamo in via Bedosti 21 a Pesaro per l'inaugurazione di due nuove attività. SEM Euformula, che è una start-up innovativa nel campo del wellness, e anche FTP, che si occupa di sicurezza informatica. Quindi andiamo a conoscerle. SEM Euformula sta per S di stella e di congiunzione alla mia socia Marilena, ecco la famosa M. Euformula è una parola che deriva dal greco e vuol dire far bene e soprattutto in maniera scientifico. Come esiste una medicina personalizzata, così abbiamo voluto personalizzare anche l'approccio alla cura estetica. Quindi in che senso? Come esiste un farmaco mirato al sintomo e alla malattia, ci deve essere un approccio consono e consapevole proprio all'utente che si rivolge ad una cura estetica. Nel campo del ringiovanimento, del dimagrimento, dello stare in forma. Quindi proprio un approccio ad uno stile di vita consapevole, che noi definiamo slow, in questa vita così movimentata, proprio apta a rispettare il periodo ormonale dell'utente e il suo stato infiammatorio. Quindi abbiamo creato questa tecnologia con una web app dove vengono incanalate le proprie analisi del sangue e viene praticamente delineato un funnel specifico per le esigenze del cliente, proprio in base ai suoi valori biologici di riferimento. In pandemia poi sono nate, diciamo, forse le idee migliori. Abbiamo avuto tanto tempo per poter creare un qualcosa che lei già aveva presentato sul territorio pesarese, che però poi insieme abbiamo consolidato, abbiamo ampliato, unendo, diciamo, i medici che già collaboravano con me e quelli che collaboravano con lei. Stiamo vedendo le immagini di Ormone, questo macchinario che è davvero rivoluzionario. Assolutamente. Ingegneri, medici, equip proprio di professionisti del mondo del wellness hanno collaborato insieme a me, a Marilena e al professor Cirilli, che siamo appunto noi tre gli inventori di questa magica tecnologia avanzata nel campo appunto estetico-medicale e siamo riusciti proprio a coadiuvare l'esigenza del cliente nell'essere proprio rispettato dal punto di vista estetico nella sua rimessa in forma funzionale. Siamo con Patrizia Dastoli e Stefano Talami, titolari di FTP. E allora andiamo a scoprire subito che cosa fa FTP. FTP si occupa di informatica a 360 gradi e nasce in Emilia, in particolare nell'ambito della Motor Valley. Pesaro è una nuova realtà che abbiamo fortemente voluto perché si tratta di una realtà marchigiana. Chiaramente in questo ambito le marche hanno sicuramente una grande necessità di ampliare tutto l'ambito di infrastruttura informatica ma anche la mentalità che noi possiamo tranquillamente importare da un settore nato appunto in una regione come l'Emilia. Noi ci occupiamo di mettere in sicurezza i dati, quindi sostanzialmente la tematica della cyber security, della sicurezza informatica tanto oggi è molto negli atti di cronaca. E quindi dal 2005, da quando siamo nati, abbiamo sempre avuto come obiettivo di mettere i dati in protezione per cui infrastrutture informatiche e sicurezza informatica.